buon pomeriggio a tutti benvenuti su investire.biz un saluto come sempre da Riccardo Zago e ben ritrovato il consueto aggiornamento di trading con Ichimoku sessione che si svolge ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 17 quindi poi prontamente martedì vado a fare l'aggiornamento delle varie posizioni che abbiamo in portafoglio e se ci sono anche dei nuovi trade ovviamente quindi innanzitutto vi aspetto alla prossima sessione che si terrà giovedì 28 novembre alle ore 16 cosa facciamo durante queste sessioni andiamo ovviamente ad analizzare i principali strumenti finanziari forex indici materie prime ed azioni ed azioni tutto mediante l'utilizzo dell'indicatore Ichimoku e ovviamente anche della price action ora però andiamo subito a commentare il trade che stiamo portando avanti ormai da ben 12 giorni e lo vedete qui in alto stiamo parlando di Audi CAD siamo posizionati in alto da 0 da 0 90 e 15 abbiamo intravisto questo trend questo possibile nuovo trend rialzista abbiamo dei massimi cerchiati qui via via crescenti ci sono state delle rotture abbastanza importanti a mio avviso la rottura della zona in area 0 90 e 10 ha poi portato a raggiungimento dei massimi in area 0 91 da dove poi sono iniziati i ritracciamenti come come possiamo vedere ritracciamenti che però sembrano essersi conclusi in area 0 89 90 proprio qui dove troviamo il lungo sangus bambi piatto la lunga cumo piatta di Ichimoku che come al solito ha funzionato da supporto i prezzi però non vogliono salire con forza nemmeno dopo la candela della 19 di novembre che ha chiuso addirittura sui massimi candela ad alta volatilità però insomma la mia view rimane rialzista primo target 0 91 e poi insomma lasciamo correre verso i target successivi abbiamo un target finale molto molto ambizioso in area 0 93 37 però insomma vedremo di gestire la posizione al meglio come al solito stop loss di questa operazione chiusura dei prezzi su time frame giornaliero quindi chiusura della candela giornaliera sotto 0 89 e 67 questa linea tratteggiata nera bene dopo aver visto audi cad possiamo proseguire possiamo assolutamente proseguire con la posizione che abbiamo su euro dollaro short da 1 10 e 88 ne avevamo aperte ben due avendo comunque uno stop molto stretto e lo troviamo sempre qui con la linea tratteggiata nera alla chiusura dei prezzi sopra 1 e 1 e 11 per questo quindi avevo raddoppiato l'esposizione a mercato abbiamo raggiunto il primo target che sono stati i minimi precedenti qui in area 1 10 e 10 e quindi ho chiuso metà il 50 per cento della posizione bene ora lascio correre abbiamo lo stop in pareggio target finale in area 1 e 09 che sono i minimi di ottobre fine novembre scusate fine settembre inizio di ottobre bene continuiamo perché dopo euro dollaro abbiamo anche la nostra operazione sul gold ormai aperta da 55 giorni poi avevamo trovato un'altra opportunità che avevo prontamente segnalato anche all'interno del gruppo traders club short da 1470 1475 intorno al 19 di novembre bene la resistenza individuata ha funzionato molto bene ci siamo aiutati sia con lo studio della press action ma anche con il supporto come al solito del nostro indicatore cimoku bene abbiamo raggiunto il nostro primo target anche qui dei minimi precedenti in area 1 454 ho spostato lo stop in pareggio abbiamo un primo target in area 1 440 e ultimo target in area 1 400 e 5 da dove poi valuterò nuove posizioni a real system ma ne parleremo successivamente ne parleremo nei prossimi nei prossimi giorni di questo strumento bene adesso andiamo a vedere s&p 500 non siamo posizionati però io sto valutando uno short come al solito io entro in posizione solo dopo un chiaro segnale di inversione qui non c'è nessun segnale di inversione al momento però lo sto tenendo d'occhio alla prima candela di inversione per esempio una doji una shooting star o qualsiasi tipo di candela che ci dà insomma un segnale short entrerò a ribasso con stop la chiusura di pretzel di sopra del massimo della candela che avremo in questo momento abbiamo comunque una doji che può dare un segnale di inversione ma non abbiamo ancora assistito alla chiusura e quindi aspettiamo la fine della giornata però lo sto valutando per uno short quindi aggiornerò tutti in trade in traders club ma anche durante la prossima sessione di trading con il cimaco di giovedì andiamo avanti però perché dobbiamo assolutamente vedere nz di usd anche qui trend a mio avviso ancora non rialzista non ci sono ancora tutte le conferme ma abbiamo dei minimi via via crescenti la resistenza però 0 64 50 sta tenendo bene avevamo già preso un bel long da qui che però abbiamo chiuso intorno qui sulla zona dei massimi bene come mi comporterò su questo su questo cambio valutario allora tenderò la rottura quindi non mi posiziono in questo momento però abbiamo il setup di cimaco che si vede insomma è ben rialzista attenderò la rottura rialzo in questo modo eccoci qui rottura dei massimi precedenti ritracciamento e poi da qui mi posizionerò al rialzo a favore di dollaro neozelandese secondo me questa potrebbe essere una di quelle operazioni che ci darà ottime soddisfazioni e andiamo a concludere l'aggiornamento di trading con il cimaco con il cross euro yen eccoci qui allora euro yen non semplice da individuare e da interpretare questo tipo di trend che direi sembrava inizialmente un trend un nuovo trend rialzista a partire dal 14 di novembre da qui avevamo pensato addirittura a un una rottura dei massimi in area 121 e 50 questo non è accaduto avevo poi spiegato anche nel dettaglio come gestire la posizione l'abbiamo gestita al meglio perché siamo entrati long a 119 e 50 e abbiamo portato a casa la posizione intorno a 120 e 50 molto bene non mi sono posizionato short perché ero già posizionato su altri strumenti quindi non volevo non volevo espormi troppo però attenzione perché secondo me qui si stanno creando delle ottime occasioni per uno short per esempio short da 120 e 40 con stop molto molto stretto la chiusura di prezzi sopra 120 e 70 vi traccio la linea eccola qui ve la traccio con precisione linea nera tratteggiata e primo target in area 118 e 70 secondo ed ultimo target in area 117 e 56 bene io direi che per oggi abbiamo concluso abbiamo già visto molti strumenti ce ne sarebbero ancora molti ma io vi invito alla sessione di giovedì alle ore 16 come sempre in mia compagnia buona giornata e buon trading a tutti